La sentenza passata in giudicato, la Severino dice che se c'è una pena superiore ai due anni tu decadi e le Camere ne prendono atto, con una votazione però, e qui interviene l'elemento. Prego signore. La impressione complessiva, dovuta anche alla contiguità fra le due votazioni, quella su Lotti il giorno prima e quella su Iisolini ieri, guarda caso, combinazione e combination proprio una ridosso dell'altra, l'andamento di entrambe, nella prima bisogna votare su una persona che è accusato di menzogna, da una persona che dovrebbe essere amico suo e che dovrebbe avere dati di prima mano, nega di essere un Stato responsabile di quello che dice, o di quello che gli viene attribuito, scusate, però non ti dice quale sarebbe poi la verità, secondo lui. Il secondo episodio l'ha illustrato lei cinque minuti fa, io dico mettiamoli tutti e due insieme in una bella cornicetta, quella con i due cuori, così, e poi chiediamoci una volta di più perché gli italiani non hanno la minima fiducia nella loro classe politica. Ecco, io sono assolutamente muta di fronte a queste constatazioni. perché non si può, insomma, mi scusi, andiamo avanti per il cavillo del cavillo del cavilletto che ci permette di dire che l'operazione fatta per l'uno è buona e quella fatta per l'altro è ancora migliore. Grazie. Grazie.